bella a tutti i forniters benvenuti e bentrovati su youtube in questo video andiamo a vedere gli incarichi settimanali della settimana 2 dei fortnite stagione oggi remix però c'è un piccolo problema perché queste missioni stanno dando un problema a tanti utenti ossia vengono segnalate che devono uscire tra determinati giorni ad esempio nel mio caso dovevano uscire ieri poi invece danno il giorno dell'uscita andiamolo a vedere gli incarichi danno eccoli qua da che uscirà ancora tra cinque giorni e sei ore poi alla fine questo mi è successo anche la settimana scorsa erano usciti tipo il giovedì o il venerdì invece oggi siamo a mercoledì tra cinque giorni praticamente sarebbe martedì prossimo come se scala di una settimana e molti di voi mi hanno segnalato che quelle della settimana 1 gli redava per per questo martedì qua ieri invece doveva essere per il martedì scorso la settimana scorsa era successa la stessa cosa non so che dire non ho visto segnalato il problema da nessuna parte questo degli incarichi voi scrivete nei commenti se anche voi avete questo problema oppure no e come sempre ragazzi mettete un mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto quando usciranno gli incarichi con altri video un saluto a tutti mi raccomando ciao